Nel fine settimana avremo due situazioni differenti. Sabato affluiranno deboli correnti da est, specie nei bassi strati, in genere piuttosto secche. Invece domenica arriverà un fronte freddo dal nord-est che avrà un rapido passaggio sulla regione, mentre lunedì arriverà aria decisamente secca che poi si protrarrà come afflusso per tutta la settimana. Quindi per quanto riguarda sabato avremo cielo sereno sotto la regione salvo nubi basse al mattino nel fondo valle Tarvisiano. Poi in giornata cielo poco nuvoloso al più variabile in montagna, ancora sereno su pianura e costa dove soffierà al mattino bora moderata e le temperature nel pomeriggio raggiungeranno i 22-23 gradi circa. Per la giornata di domenica a mattino avremo cielo variabile, poi in giornata un rapido peggioramento con delle piogge sparse, qualche rovescio, neve in montagna oltre 1300-1400 metri circa, ma già dal tardo pomeriggio la perturbazione se ne andrà, seppur con bora forte sulla costa, bora che potrà soffiare 80-90 km all'ora sul golfo di Trieste e bora l'avremo anche nelle ore centrali giornata sulla pianura. Poi in serata appunto miglioramento con cielo sereno, da lunedì e per diversi giorni cielo sereno su tutta la regione. Dall'osservatorio metodo regionale dell'ARPA un saluto da Marcellino Salvador.